Nella situazione mondiale i corpi delle donne sono quelli che davvero soffrono di più. Se noi andiamo a vedere le statistiche sulla fame, le protagoniste di questo dramma sono donne e bambini. Nelle guerre le donne soffrono ancora di più degli uomini perché rimangono in una situazione di doppia perdita. Loro non vanno in guerra, restano nei campi profughi oppure diventano nomadi, migranti insieme ai figli, hanno lasciato tutto. E sono anche più esposte all'ingiustizia, anche per quanto riguarda il loro corpo. La donna è comunque sempre più esposta. Allora, secondo me va cambiato il registro. Cioè oggi una politica vera, una ricostruzione delle relazioni vere all'interno della storia si deve fare tenendo in conto questo linguaggio del corpo delle donne. E non solamente un linguaggio appunto teorico, ma un linguaggio esperienziale delle donne che d'altronde è quello che ci è venuto sempre da secoli. Cioè il corpo delle donne ha sempre partecipato in qualche modo alla costruzione della storia, a quello che anche proprio alla formazione, ha trasmesso storia. Le donne hanno trasmesso storia attraverso il loro corpo, attraverso la cura della natura e oggi sarebbero a mio avviso pronte per favorire un nuovo tipo di politica, un nuovo tipo di legami sociali, di relazioni sociali nella storia. La mia tesi è che le diversità non generano le sabbie mobile. Le sabbie mobile potrebbero essere proprio l'indifferenziazione. Parto dal fatto che per le donne, per il femminismo, si è detto che è stato bloccato dalle diversità. Però ho scoperto che dalle sabbie mobile, quindi immaginiamo che il movimento delle donne sia bloccato all'interno delle sabbie mobile, ma dalle sabbie mobile si esce in due modi. Uno è stando fermi, è quindi un momento di ricollegamento con noi stessi. L'altro è entrando in relazione, quindi noi possiamo uscire dalle sabbie mobile proprio entrando in relazione con le diversità. Diversità che sono all'interno di noi, perché alla fine non siamo persone univoche, ma siamo attraversate da tantissime strade diverse, tra le quali ogni volta io devo scegliere, incontro una persona che è incontrata anche lei da persone da strade diverse, c'è una contrattazione tra differenze, in questo modo entro in relazione, usciamo dalle sabbie mobile e cominciamo a costruire una realtà di rispetto delle differenze, delle mie e delle altre.